Ben trovati telespettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di venerdì 24 febbraio. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che avremo fenomeni di instabilità diffusa soprattutto al centro nord, mentre sulle estreme regioni meridionali e su quelle di nord ovest avremo tempo stabile ma accompagnato dalla presenza di molte nubi. La ventilazione media risulterà forte dai quadranti meridionali e mari saranno generalmente mossi o molto mossi, mentre per quanto riguarda l'aspetto termico le temperature risulteranno in generale aumento su tutto il territorio e in particolar modo al centro sud. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino avremo condizioni di tempo stabile ma accompagnato dalla presenza di molte nubi, infatti i cieli risulteranno molto nuvolosi o coperti. Nel corso del pomeriggio e della sera le condizioni meteorologiche vedranno un peggioramento con piogge e rovesci che andranno ad interessare soprattutto il versante occidentale. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.